Ma non sai come è un comandante? Cud, ci vuole mettere la prova. E se no mi chiede un comandante, tu ce la fanno la stessa. E se uno non comanda, che razzi comandante? Di solito spacca il secondo. Plutone, attivite! Ai, vai! Gruppo interforte? Ci ha detto inter? Forse, ma non... Bene signori, siete stati scelti dalle vostre rispettive armi per partecipare a questo speciale corso di addestramento. La grande, la grande. Ci stiamo. Oggi c'è la prima lezione. Mimetismo. Come? Mimetismo! Siamo noi, siamo noi. Abbiamo costruito questo posto in modo che non abbia una via di fuga. La motivazione è questa. Se siete inseguiti dal nemico, avete pochi secondi per nascondervi, per mimetizzarvi, per confondervi con l'ambiente. Cinque secondi. Cinque secondi. È tutto chiaro? Chiarissimo. Vai! Bene. Cominciamo con la polizia. Mi allontano, conto fino a cinque. Cinque. Dopodiché, quando mi giro, dovrei essere sparito dalla mia vista. Pronto? Parte col conto alla rovescia. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Arriva il nemico. Non vedo nessuno qui, ma vedo un bidone che si muove. Chissà perché si muove, cazzo al meglio. Puoi uscire, poliziotto. Mi sto bloccando. Va bene, promosso. Enrico. Adesso vediamo tu, soldato. Amati. Se sarai altrettanto bravo come il poliziotto. Aspazione. Hai cinque secondi di tempo per mimetizzarti, per sparire la mia vista. A partire da adesso, cinque, quattro, tre, due, uno, arriva il nemico. Non vedo nessuno. Ma guarda un po'. Una chiave inglese che cade da sola. Sa come mai. Va bene così, esci, soldato. Complimenti. Ti sei mimetizzato fingendo di essere un cane. Promosso. Grazie. C'è squadra. È come il cane. Comandi. Tocca adesso a te, carabiniere. Vedremo se sarai in gamba come i tuoi due colleghi. Semplicissimo. Hai cinque secondi per sparire la mia vista. Anche quattro, diciamo, potrebbero bastare. A partire da adesso. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Arriva il nemico. Un sacco che si muove da solo. Chissà che cosa ci sarà dentro. Un sacco che si muove da solo. Nessun animale, eh? Patate, patate, ti giuro patate, patate, patate.